ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale oggi vi mostro come ho realizzato questi ciondoli e vi devo dire la verità è stato un po complicato perché la prima volta appunto che utilizzavo la resina UV che vi ricordo mi è stata inviata da ResinPro che ringrazio ancora e se non avete visto lo spacchettamento precedente del video precedente ve lo lascio nel palino delle i come al solito cliccate lì e andate a vedere il mio precedente video ho avuto un po di difficoltà sì è vero ma non ho mollato perché appunto forse ho scelto anche dei ciondoli un po diciamo più complicati perché non erano totalmente piatti ma erano un po bombati il risultato per essere la prima volta che appunto provavo la resina UV non mi per niente dispiaciuto anzi sono stata abbastanza soddisfatta dovrò prendere altri ciondoli magari anche di color argento perché magari utilizzo di più rispetto a questi color oro però appunto mi devo un pochino abituare a questa nuova tecnica e a questa nuova resina che appunto non conoscevo un pochino abitato grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un grosso bacio e come sempre ci vediamo al prossimo video Ciao